ciao bambini benvenuti a una nuova puntata del nonno Arturo oh meno male che ti ricordi il tuo nome ah sì l'ho studiato eh sì hai studiato stamattina sì 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 stamattina mi sono svegliato e mi hai chiamato no mi hai detto guarda che oggi facciamo la registrazione di nonno Arturo allora io ho detto chi ha detto ma guarda che nonno Arturo sei tu ero io che coincidenza sono veramente contento che coincidenza ma super contento ma perché che festa sta per arrivare nonno Arturo dunque carnevale l'abbiamo saltato abbiamo pubblicato il video oggi di due settimane prima ma sì ma perché è successo un disastro Natale non può essere perché ieri ne ricava e Natale neri allora può essere Natale però mi sembra che l'abbiamo fatto poco tempo fa no 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 non è Natale e allora se non è Pasqua è Pasqua è Pasqua nonno Arturo buona Pasqua bambini buona Pasqua lo diciamo fra qualche giorno è ancora Pasqua Pasqua ma scusa prima o dopo è uguale io regali di Pasqua te li ho già fatti guarda lì ah sì due uova sono per me due uova e un paniere però li apro dopo va bene ovviamente che facciamo oggi facciamo un cestino per andare a raccogliere le uova di Pasqua nel giardino ma scusa le uova io sono vecchio ma non sono tonto le uova di Pasqua non crescono nel giardino ma non hai mai fatto la caccia alle uova si comprano al supermercato no 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 c'è il coniglio di Pasqua che la sera di le uova nel giardino dei bambini no bambini il coniglio di cioccolato non può portare le uova ma tu hai mai visto un coniglio che va in giro nel giardino i conigli sono nel supermercato di cioccolato no no Arturo quelli sono quelli di cioccolato ma io ho visto una volta un coniglio tutto rosa nel giardino dell'asilo dove stanno con i bimbi ogni tanto e sai che girava e ha messo le uova nel cartile ma allora era una coniglia era rosa quella sì ma mi sa che c'è il coniglio con la sua coniglia ok va bene sì allora e le conigliette e i coniglietti chi sono e i figli del coniglio della coniglia ma che bello il mondo è incredibile adesso ascoltami bene per fare questo cestino ci serve una scatola delle uova buone le uova sì dopo facciamo la frittata sì sì io l'ho fatta ieri è andato contro un muro tu hai fatto la frittata ho fatto la frittata ma tu ho le uova io io poi un vasetto per mettere la pittura il vasetto è quello dove si fa la pipì questa la so la so anch'io no 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 non il vasetto dove si fa la pipì il vasetto per mettere la pittura ma poi metti la pittura della pipì ma no ma che pipì la via ha perso la testa ragazzi non fateci caso bambini non ha capito ha messo la vernice della pipì ma dai nonno arturo concentrati poi abbiamo bisogno la colla pipì si può dire sì sì però non è vero che lo usiamo per la pipì va bene poi due pennelli i pennelli due o anche uno di penne una forbice oh attenzione che la forbice è pericolosa eh taglia ci vuole la mamma il papà lo zio la zia certo un grande che sta con voi e poi dei cartoncini colorati io ho visto i cartoni animati è la stessa cosa no non è la stessa cosa questi sono i cartoncini colorati per fare il lavoro ma anche i cartoni animati sono colorati adesso attento bene nonno arturo si sta innervosendo non ascolti sì sì la conosco dobbiamo tagliare un pezzo nella nostra scatola non farti male no tu controlla che taglio bene è dura sì ma se non lo fai vedere nella camera i bambini a casa non vedono niente faccio un po fatica nonno arturo a tagliarlo ci penso io dammi la forbice le taglio io taglia sì sì guarda eh mi aiuto con la bocca non si sa mai guarda dove devo fare no 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 così sei pericoloso no 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 non arturo lasciamo perdere non mi fa faimare niente non mi fa fare niente ma non sei capace oh io ho 103 anni e mezzo eh comunque tagliamo un pezzetto ce l'ho quasi fatta però bambini flavia è brava eh una specie di cestino per prendere le uova piccole pensate che ha anche i capelli eh no perché dovevo essere calva ma non si sa mai eh poi lo dobbiamo pitturare ma che carino il nostro è piccolo ma loro possono anche avere un cestino più grande sì e poi siamo la pittura del vasetto dipingi sul tavolino bianco che poi si macchia guarda che la mamma si arrabbia eh ma ci mettiamo la tovaglia ecco brava mettiamoci la tovaglia noi ci mettiamo sotto un cartoncino io ho la mamma mariana sai ma sì 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 lei si si arrabbia eh allora ci mettiamo sotto un cartoncino va bene così brava ora lo pitturiamo no che bello che bello sono emozionato sei emozionato sì 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 vuoi pitturare ma dopo ti sporchi tutto no 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 guarda come si pittura voglio pitturare allora va bene te ho preso il pannello il pannello il pannello solare bambini pennello pitturate bene quando avete pitturato tutto il vostro ecco bravissimo pittura ma non Arturo devi prendere la pittura però se no così non pitturi vabbè bambini voi non fate come non Arturo come si chiama quella malattia che ti trema la mano ma non lo so io ce l'ho non mi faccio mancare niente eh ma perché sei anziano 103 anni e mezzo quando fa il compleanno ottobre ottobre sì oh allora manca ancora tanti mesi è un po' sì per fortuna anche dentro eh 103 anni e un quarto guarda bisogna colorarlo anche dentro no sì sì ecco ecco fai cadere le cose no è caduto è caduto ciò se fai così e vabbè ma scusa eh ma dove mi fai pitturare ecco che bello sì va bene dai bambini posso dirvi una cosa la Flavia è troppo divertente ah grazie non Arturo divertentissima bene comunque quando è pitturato sapete il momento in cui la Flavia si diverte di più sentiamo perla di saggezza quando si sveglia la mattina perché perché si guarda allo specchio e muore da ridere è vero faccio ridere esatto bella questa allora quando è pitturato lo fate asciugare non Arturo abbiamo finito di pitturare sì bisogna soffiare sì no è meglio che non soffi no si asciuga da solo non Arturo lo mettiamo ad asciugare mentre si asciuga tagliamo no non ti taglio te ah ecco perché io lo so che tu hai un secondo fine eh ma che secondo fine sì sì io ho scelto giallo eh poi si può mettere il colore che si può bambini che cosa è il giallo il colore del semaforo e anche della banana ma è il colore sai di cosa del sole del caldo ma le banane fanno male eh sì perché fanno male le banane perché un giorno ho mangiato quattro chili di banane e sono stato malissimo le banane fanno male ma non fanno male ma se tu non Arturo che ne hai mangiato quattro chili devi mangiarne una due banane un chilo un chilo no ma non ho capito le banane fanno male dopo quattro chili di banane io stavo malissimo ma ti stavo spiegando non Arturo che non è che fanno male le banane che tu ne hai mangiate troppe di banane un chilo solo devo mangiare no devi mangiare una banana una due non ho letto bene le istruzioni no non ci vedo più bene sarà sarà io intanto ho finito di pitturare che brava guarda che bello ma devi montare adesso il manico adesso dobbiamo tagliare una strisciolina non farti male gialla no sto attenta eh brava i bambini si devono far aiutare dalla mamma o dal papà bambini che ci siano lì con loro ora vi do una notizia sì Flavia è una maestra è vero bravissima grazie sì allora adesso mettiamo la colla qui lei è una maestra speciale non Arturo guarda dopo parli e la colla qui per bambini speciali cioè e poi lo attacchiamo al nostro cestino voi dovete attaccarlo quando il cestino è asciutto non come noi perché noi non abbiamo tempo di farlo asciugare ma Flavia è magica guarda che bello il nostro cestino vediamo se sta non so se sta farlo vedere in camera che bello e qua ci mettiamo le uova che raccogliamo come lo vedi anche a me qui attenzione che ti sporco mi sporco no 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 io sono guarda come è bello lo potete scegliere che colore farlo lo scegliete voi come mettere il mi piace non me lo presti cosa vuoi il cestino sì sì te lo presto quando è asciutto potete scegliere tutti i colori che volete cosa fai soffio lo asciugo ma no si deve asciugare con l'aria da sola è l'aria ma no no Arturo non è che si asciuga di più devo mangiare i fagioli no 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 hai detto l'aria poi allora ricordiamoci di chiudere di chiudere la colla chiudiamo tutto e mettiamo a posto eh mettiamo a posto anche noi poi andiamo a lavare le cose sì 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 ma lava Flavia io mi riposo sì perché tu sei già stanco sono già stanco un po' sì poi bambini se dovete raccogliere tante uova io farei tanti cestini sì le uova si trovano nel giardino di colori diversi crescono nel giardino le uova no le porta il coniglio il coniglio di cioccolata porta le uova di plastica sai come si chiama prendi le uova di plastica sai come si chiama Dudu il coniglio che porta le uova di plastica le uova di cioccolato Dudu sì ma me l'hai portata tu queste uova l'ho portata io e cosa c'è te dico ma scusa ma se uno ti porta una cosa chiusa tu la devi aprire e poi vedi che c'è non è che te lo dico io se no non ti portavo l'uovo c'è il cioccolato ti portavo direttamente il contenuto c'è ci sono le uova di cioccolato no cioccolato è buono ma non c'è aspetta che sento anche l'altro è uguale ho capito due gioielli bravissima il vero gioiello sei tu tu sei un gioiello grazie grazie nonno arturo ma qui ne ci sento due gioielli prova apri topazzi ma cos'è vedrai ci sono i topazzi i topazzi i topazzi sono dei topi un po pazzi ma non li voglio i topi ma cos'è nonno arturo fallo vedere in camera qui 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 guarda che bello ma io non so cos'è Sherlock Holmes è un detective un detective privato e perché mi hai regalato un detective perché stiamo per inaugurare una nuova serie tv che si chiama il detective nonno arturo investigatore è davvero vuoi fare l'investigatore scopro i casi trovo i colpevoli sarà divertente bambini se avete mangiato la marmellata ho fatto qualche marachella io lo trovo allora attenti bambini non fatele attenti Arturo digila su tutti e in questo secondo me rosa c'è una donna dentro una donna sì esatto ma scusa è logico tu lo sapevi ah lo sapevo ma guarda come sono intelligente ma guarda com'è bella sembra una modella è come te adesso io non sono una modella guarda questa sì ma fallo vedere in camera no ecco brava e questa perché mi hai regalato questa perché daremo vita anche una serie di bellezza bellezza davvero natura e bellezza ma che bello è una serie dove Flavia è la protagonista poi c'è anche altre persone speciali che non vogliamo anticipare che bello ma quindi questa io e te insieme e questa io da sola sì come da sola vuoi farlo anche tu vuoi fare anche tu la bellezza non Arturo si è addormentato non Arturo ma puoi venire come ospite va bene sei d'accordo va bene allora direi che è ora di salutare i bambini se sei hai sonno a sonno bambini quindi ci vediamo alla prossima puntata mi raccomando fate tanti cestini ciao ciao bambini buona pasqua buona pasqua che spaventi così buona pasqua